Il mio gatto è morto, potresti fare un quadro con lui che sta ancora bene? Ti prego, mi farebbe stare meglio. Certo! Non potrò restituirti il tuo gatto, ma se questo ti aiuta a stare meglio, do volentieri il mio contributo. Anche io ho un gatto e non esiste amore più puro di voler bene ad un animale. Credo che sia il sentimento più genuino e incondizionato che ci sia. Non c'è né malizia né cattiveria in loro e questo gli rende estremamente sinceri e speciali. Quando ci lasciano però è un dolore straziante, ma non ti preoccupare perché la morte, come la nascita, è un processo naturale. E ovunque la sua anima sia adesso, sono certo che sta proprio come in questo quadro.